Il racconto dell'attrice e cantante, intervistata da Silvia Tofanin su Canale 5. La madre, l'aborto spontaneo, la perdita del padre, la famiglia. Ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Tofanin, Patrizia Pellegrino ha ripercorso tutti i momenti della sua vita, compresi i lutti e i momenti felici. Il tutto, insieme alla mamma Elena, in studio insieme a lei. Ha iniziato parlando della morte del padre Patrizia Pellegrino. Attrice, showgirl e cantante napoletana. Papà e Aldo sono state le persone che mi hanno amata di più nella mia vita. Io parlo sempre con mio padre, gli racconto le cose quotidiane della giornata. Lui era un avvocato molto importante. Finché io vivrò lui sarà sempre con me. Non ho paura della morte perché sarà lui a prendermi. Io non ho paura di niente. Spazio poi all'aborto spontaneo. Prima della nascita di Riccardo ho rischiato di morire. Mentre ero a casa sola ho sentito una fitta nella pancia e ho avuto la consapevolezza di stare per morire. Non riuscivo a camminare, ho strisciato fino a casa della vicina. Arrivata in ospedale ho sentito il medico dire veloce, la stiamo perdendo. Per un momento ho perso conoscenza, pensavo di essere morta. Però devo essere sincera, quella parte di mondo non è male. Ricordo la sensazione di pace. Mia madre è una donna viva, forte. Mi è stata vicina in tutti i miei momenti tristi. È stata l'unica a vedere Riccardo, ha raccontato Patrizia Pellegrino prima di accoglierla in studio. Presentata ufficialmente su Canale 5, mamma Elena ha raccontato aneddoti sulla figlia parlando anche delle sue preoccupazioni. E questo è tutto. Voi cosa ne pensate?